Siamo con Capitan Scaglia Massimiliano, prima o poi un po' doveva arrivare questa sconfitta casalinga, è arrivata oggi forse in maniera un po' cruda, un po' brutta a livello di risultato, però arriva. Sì, era se non sbaglio più di un anno e mezzo insomma che qui in casa raccoglievamo punti, però prima o poi doveva arrivare, forse è arrivata anche nella giornata in cui sarebbe potuta arrivare in una giornata negativa generale, invece avevamo avuto in mano la partita per quasi tutto l'arco dei 90 minuti, poi abbiamo preso un gol nel primo tempo sull'unica loro forse azione offensiva, stessa cosa il secondo gol e poi vabbè alla fine ti sbilanci, non credi neanche tu alla partita che stai perdendo e poi subentra la stanchezza, un po' di errori, un po' di sconforto e quindi il risultato fa clamore, ma comunque abbiamo fatto anche oggi secondo me una buona partita, con tante occasioni, in qualcuna siamo stati, potevamo essere più bravi noi, in qualcuna sono stati bravi loro, in qualcuna potevamo raccogliere qualcosa in più anche da parte dell'arbitro, però insomma è andata così. Hai detto un po' tutto tu, perché nel primo tempo c'era stata magari l'occasione di Belloni, gli aveva dato quel bel pallone sulla punizione, poi c'era stato questo possibile regore di Marchi, non so, dici tu come l'hai visto dal campo innanzitutto. Ma io credo che Ettore potesse tirare in porta e quindi non credo che nel momento in cui la palla sul suo piede, in una posizione di campo favorevole per tirare, si butti. Probabilmente l'arbitro che era all'esterno di Marchi non ha visto la trattenuta che era sul lato interno e sicuramente ha deciso di non fischiare non valutando l'occasione da rigore, però per chi era lì vicino è sembrato abbastanza clamoroso. Poi abbiamo avuto un paio di belle occasioni anche su altri calci piazzati, insomma eravamo lì, li pressavamo, li tenevamo bassi, creavamo continuamente azioni pericolose e poi su una loro azione abbiamo preso un'infilata strana e abbiamo subito gol. Bisogna comunque rimanere sereni, o diciamo anche ai tifosi della Provercelli che ci seguono, però c'è da pensare già subito poi alla partita di Crotone, molto importante perché Crotone è anche un'altra squadra come anche quella che verrà dopo, ovvero la Ternana che lotta per la salvezza. Certo, ci sarà un filotto di partita in cui sarà importante fare dei punti per arrivare alla fine del giorno in andata con un buon margine di punteggio e era importante oggi, lo sarà altrettanto domenica prossima, sabato prossimo, lo sarà quella successiva e forse lo saranno anche le altre due dopo, quindi insomma c'è fiducia, ancora un po' di sconforto per l'imminente sconfitta, però insomma si riparte. Provercelliore! Provercelliore! Provercelliore!